se l'apparenza inganna la tequila di più ha sbagliato strada mi hai trovato a videotop con grande piacere diamo il benvenuto a la rete ciao eccomi ciao grazie a tutti grazie per l'invito davvero beh io sono felice perché un bel è un bel momento quando tequila bonbon già da di il senso del divertimento del movimento dell'estate si è vero è un titolo che già racconta il mondo nel quale si trova però vabbè non ha pretese una cantone che non ha pretese vuole semplicemente essere fresca leggera anche perché dopo due anni di patimenti c'è bisogno anche di quello non serve solo quello perché guai la vita è tutt'altro che leggera però quando ci sono quegli attivi che dobbiamo regalarci perché è giusto che lo facciamo per noi stessi quindi spegniamo un attimo il cervello c'è qualcuno che magari lo fa con più facilità sì c'è gente che non ha più ritrovato il tasto ma della cessione ma fa niente ma questo lo chiamano no perché in effetti ragione cioè per carità non si può dimettere ma siccome ci sono così tanti che sono concentrati a farsi tenere appunto ben saldi i nostri i nostri fari puntati sulla realtà è anche giusto concederci cioè perché quel minimo di di respiro ci vuole anche se non lo dobbiamo noi stessi anche perché vuoi accendi il telegiornale ogni giorno ci sono sciagure dai il futuro in questo momento non è proprio chiaro e certo anzi mai come adesso è incerto quindi se per un attimo possiamo distrarci che se va bene dai anche perché è proprio un'indicazione che arriva dai tempi che stiamo vivendo non si quindi una grande incertezza del futuro una quotidianità che quando ti svegli diciamo che succede oggi e dobbiamo imparare a vivere sì momento anche dai hai detto bene hai detto bene perché non aveva i nostri nonni sapevano già qual era la loro strada avevano tutto già predefinito che da una parte è bene dall'altra capisci che insomma rende tutto molto statico e poco evolutivo invece per quanto riguarda noi ma già io bene o male io 40 anni quindi insomma sono in quella fase di mezzo ma i giovani d'oggi cavoli se la vedono brutta non vorrei essere al loro posto dico la verità perché parlando anche proprio del pianeta terra ma è come in questo momento vediamo anche le conseguenze no del dello sfruttamento di della totale non curanza che abbiamo che abbiamo rivolto nei costrutti della nostra della nostra terra quindi insomma è dura e del resto parlando di terra rispetto a quello che si semina c'è sempre un raccolto e quindi di conseguenza ahimè il raccolto è tutto il frutto di quello che abbiamo che siamo stati e quindi dobbiamo tentare di invertire velocemente la rotta però per farlo nel migliore dei modi dobbiamo anche avere il momento così di di divertimento e sicilità come è nato questo il tuo primo disco inedito vero? sì, è il mio primo disco inedito l'anno scorso sono uscita con una cover di Raffaella Carrà rosso rosso? strano rosso, c'è sempre questo colore nella mia vita che palle mi verrebbe quasi da dire che c'è un comune di eliminatore o meglio un fir rouge detta così sì, è il primo inedito ma allora doveva uscire l'anno scorso però non era il momento giusto anzi abbiamo fatto bene io e la mia tipica discografica abbiamo fatto bene ad aspettare un anno sarebbe stato sprecato ce lo saremmo proprio giocati e invece quest'anno era giusto poi avevo chiesto anzi di rivedere a DJ Spani era del 105 ho chiesto una mano e quindi c'è dietro il suo zampino la sua firma che ha reso tutto ancora più attuale perché come ben sai tanti brani nascono essendo dall'anno scorso già i suoni dovevano essere un po' rivisti e quindi in questo caso è stato pensato questa cosa qui quindi con DJ Spani la cosa è diventata ancora più più bella e pronta sicuramente pronta quello che si dice un artista tutto tondo multitask non so come definirlo un entertainer piuttosto che bocca una ballerina presentatrice tv cioè quante cose so fare niente praticamente tutto niente ho cominciato come ballerina avevo quattro anni la mia vita sul palco è lì che ho subito amato stare sul palco poi a 18 anni ho vinto una borsa di studio Gianna Tani che era la ex direttrice casting media mi scelse come candidata e niente arrivai a Milano avevo 18 anni manco sapevo parlare bene l'italiano dico la verità parlavo praticamente il Veneto così c'è una streghetta e quindi grazie a Dio ho studiato danza edizione recitazione lì è una scuola che ti prepara veramente completa sì che ti prepara al mondo dello spettacolo e loro avendo questi contatti con Mediaset mi proposero questo casting come letteronza con la Jalappas avevo 21 anni e quindi lì la prima esperienza di botto da zero subito a mille con i Jalappi il Mango Forest Maola Cortellesi Fabio De Luigi cavoli tanta roba da imparare tantissimo prendere appunti una bella palestra come si dice sì cavoli lì era una ballerina certo però sai uno sorbe bravissimo si ruba in modo buono si ruba tutto importante sì e poi tante telepromozioni spot televisivi io ho un'ottima memoria nonostante tutto ecco non so da dove arrivi però ho un'ottima memoria quindi mi sceglievano spesso per i testi quindi telepromozioni io leggevo una volta e bam subito ah la grande quindi e quindi anche adesso telepromozioni su striscia con le veline il gabibbo ho facilità quindi insomma delle volte arrivo risolvo in un attimo buona la prima e via tutti a casa infatti mi amano si sa che perché poi il budget il famoso budget prevede tempi e quindi ha voglia se tu riesci pure a finire prima è meglio per tutti vanno tutti a casa presto meraviglioso infatti mi amano i tecnici tutti posso immaginare c'è la Rossi ottimo la ola parte in automatico è bello dai almeno un po' di riconoscenze ce l'abbiamo dai non tenermi la mano stasera voglia di lasciarmi andare dai non tenermi la mano stasera voglia di ballare dai non tenermi la mano stasera anche domani ti voglio amare la musica è arrivata per tirare la somma è arrivata durante il lockdown ho sempre cantato non è che prima però l'ho sempre tenuto un po' in disparte perché forse non credevo così a fondo nei miei mezzi tanta insicurezza tanta insicurezza che vabbè sulla quale ci stiamo ancora lavorando però le cose sono cambiate molto affrontare il canto la mia vocalità e conoscere anche i confini anche se i confini sono stati abbattuti e tuttora si stanno scoprendo cose nuove grazie al mio anche devo ringraziare Moreno del Signore il mio vocal coach che ha fatto un miracolo tra l'altro del Signore è già un programma ma chi glielo dovevi chiedere il miracolo scusa esatto esatto fantastico meraviglioso numero uno no davvero è un viaggio che ho fatto sia con la voce ma spiritualmente perché non sempre si comprende che la voce è legata alle emozioni alle emotività e quindi quando risolvi determinati blocchi se vogliamo chiamarli blocchi risolvi anche degli impedimenti vocali tecnica ovvio che ci deve essere però insomma ho ritrovato la mia voce si era persa facendo la vocal poi si urla si urla magari l'avevo proprio rovinata grazie a dio senza patologie però l'ho dovuta risanare un pochino e adesso si canta si canta seriamente quindi posso definirmi cantante meraviglioso ho un forte desiderio che mi fai un sulle mani saluto in tavolo ma lascio stare ero martedì a Gallipoli ho inaugurato il locale di il rio e lì vado vado veramente da più di dieci anni e lì vado mi chiamano perché insomma faccio la vocalist è uno dei pochi locali in cui faccio ancora la vocalist ma lì mi piace sono 5.000 persone è un'altra roba e quindi sulle modi lo faccio ancora ogni tanto ma devo siamo in confidenza è successo non più tale due settimane fa una serata che ormai è una tradizione di 15 anni su una piazza con 6.500 persone presentazione più istituzionale perché poi c'è la musica e il DJ così però ha preso bene poi sai il ritorno a frequentare le piazze in quel modo lì mi ha scappato sulle mani fatevi sentire su e giù mi è uscito il vocalist quindi ti capisco vocalist è uscito per fortuna dai però dai è una cosa che va detta quando sei davanti a tutte quelle persone meraviglia quasi liberatorio dai fighissimo adesso insomma la voce è uscita non solo come vocalist che quella era uscita da ora ma come cantante da qui in poi la strada è in disceso no sempre in salita amico mio qua bisogna dimostrare sempre perché già quando sei donna devi dimostrare il doppio poi se sei anche un po' carina eh è voglia e se no non ti prendono sul serio no davvero poi ho comunque ho bella ansia alla prestazione no sono sempre diciamo è una mia peculiarità tendo a fare tutto veramente all'eccellenza ho proprio una mania di perfezione non so quando è ora di mollare mollo però mi impegno tantissimo con tutte le cose che faccio veramente ho una dedizione al lavoro a quello che faccio che è è ineguagliabile no nel senso che ci tengo ci tengo faccio le cose bene perché ho rispetto del lavoro e lo amo da morire ho la fortuna di fare una roba che mi piace quindi giustamente e poi da tutto se stesso come te immagino quando uno ha la fortuna di avere così tanto dalla vita ti senti in dovere di ringraziare e di dare indietro con i mezzi che hai a disposizione in questo caso la radio la voce tutto quello che hai è una forma di amore di ringraziamento anche per per la vita perché la vita con noi è generosa eh sì assolutamente sì noi allora ti possiamo davvero fare un grandissimo in bocca al lupo e ci sentiamo per le prossime avventure musicali sì 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 ok sì la prossima avventura musicale tra l'altro è tutto come ti dicevo è tutta totalmente diversa da tequila boom boom cioè questo brano molto intimo non vedo l'ora che esca è pronto già registrato bello bello molto emozionante ed emozionale e allora ti aspettiamo un video ma vengo lì vengo lì sì in studio mi sembra una cosa a voglia per riconoscermi mi vesto di rosso bravo perché sai che delle volte uno che non capisce bene ok è stato un piacere anche per me un abbraccio grande a presto ciao grazie a presto tequila boom 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 tequila boom 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 tequila tequila boom 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 Tequila